Sì, la ringrazio. Io veramente volevo votare come il mio gruppo, però poi le parole del consigliere mi hanno veramente convinta che invece voterò no, perché è molto bello che loro si preoccupino di ambiente, si preoccupino di una delle nostre stelle, ma pensate se noi votassimo veramente i contrari o non facessimo le cose che sono le nostre stelle. Ma non è che perché voi portate una qualunque cosa o la qualunque sui temi che sono a noi cari, allora noi dobbiamo per forza approvarvi gli atti, soprattutto quando le cose sono state fatte o le stiamo facendo. Non è che ci dovete dare l'imbeccata voi per quello che dobbiamo fare. Vedo che la campagna elettorale è iniziata ed è iniziata proprio male, quindi io boccerò quest'atto. Grazie.